Come scusa? I pagliacci? Chi sono? Chi sono i pagliacci? I pagliacci? Noi del Napoli eravamo forse, eravamo, ma non so neanche se eravamo l'unico forse perché... Sono buoni, veramente, veramente, complimenti a chi gli fa, rapidi, te, ciao, molto buoni, buonissimi, veramente, con la sconfitta di oggi della Juve sono proprio buoni, veramente, fantastici, non credere, complimenti a chi gli fa, poi meno male che dicevano che eravamo con i pagliacci, andiamo a guardarci, penso a farmi vedere, se no poi mi, allora, salate, beh, quello sì, salate, sono salate, ok, buonissime, molto buone, buone, va bene, ok, va bene, poi sì, li mando a Max di Juve, magari, che magari, magari si calma un po' a non, va bene, ti li mando per mail come vuoi, ti li mando così, anzi, anzi, allora, quando fai, allora, te o ti li mando per mail, o magari, che ne so, se mi scrivi, cioè, se mi scrivi la tua mail, ti li mando, costano, oddio, quanto costano questi, quanto, 1 euro, quanto costa, vabbè, che non li devi comprare, perché li mando, quindi, no, per cui, anche se ti piacciono, magari puoi li comprare, perché io ne ho 20 mila, sono solo questi che sono molto, devo sapere quanto costa, quanto, allora, qua non ci sento, ah, costa, ah, vabbè, dai, neanche tanto, sì, te li, magari, per, magari, te li, in buco, così, e te li mando, magari, se li mando, ripeto, se li mando, o ti mando solo la targa del colo e poi li compri, o te li mando così direttamente, così, vedi se sono buoni, te li mando, e poi te li voglio comprare, se no, ok, ragazzi, questi, questi, ripeto, per Max e John Fe, qua, per te, ci sono, fa, per te ci sono, se li vuoi, sono là, se no, non fa niente, se li vuoi, là, se li vuoi, ti vieni a prendere, e sono là, ok, e poi dici che poi, siamo noi, ma in realtà, se ti vuoi, ok, ragazzi, allora, la 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 ok, andiamo le cuffie, no, scusate per l'interruzione, volevo solo augurare che, diciamo, diciamo, se, scusate se sono piedi perché, cioè, sono le una e, luna e 25, ormai, sono le 25, cioè, ti prego, no, devo parlare piano, devo parlare piano, perché, se no, ok allora questi segni metto gli arachidi li posso mandare alla lei se li mando un'email ok allora perdiamo un po' di la partita perchè in assoluto ho tanti per vincere e fare una considerazione ok va bene e allora ragazzi parliamo della partita allora la partita è stata adesso sono in piedi come tutti non so però alcuni dicono che il napoli ha dettato io questo non lo so certo ho visto la partita proprio ho visto io nel napoletano invece nel napoletano io per alcune parti si ma per alcune altre ho visto anche un po' più aggressiva un po' più vabbè diciamo ok però il napoli diciamo che ha mantenuto l'opinione nel primo tempo perchè lei nel primo tempo ha fatto un po' di siamo di gioco c'è più senso poi nel secondo tempo il napoli ha cominciato a diciamo a giocarsela questo questo match molto importante poi sono finite sono anche che mi sono andato acqua altre patatine là che sono i vaste e arachidi buonissimi no dicevo poi sono andate i ricori allora io voglio fare una precisazione alla juve allora perchè se la juve sbaglia due minimo tre rigori come stasera che poi forse la sbaglia di due però se c'è io tutti dicono ma non è c'è tutti dicono che è colpa di sardi che è colpa di agnelli che è colpa di che ne so di ronaldo ma ronaldo ragazzi non c'è il tronando ronaldo è un giocatore che io tanto me ne frega un cazzo da juve sbaglio c'è anzi max di giugno di tre che è tutta la francia che è veiccia e vi riprendete la chi è vi riprendete vi riprendete vi riprendete occhio vi riprendete vi riprendete anzi quanti sono i massi è un bel poco di voi a tuo piacimento guarda ce ne è un dio precedente non c'è abbastanza non c'è abbastanza di voi e e ciao tieni e sono molto buoni veramente complimenti a chi ma comunque se immaginiamo l'ultimo boccone molto buoni poi salate sono troppo buoni ok ragazzi vi saluto e ci vediamo domani con tantissimi nuovi contenuti e sabato riparte la serie a serie a serie a sapato il parto la serie a serie a serie a serie a Oh seria lì, seria lì... Oh 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 oh, la lalala la 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 la, la la la, numero liebe! non vedo la sera la sera ok ok ragazzi mi sono fatti ehm andiamo a fare i seri mi sono mi sono vabbè adesso poi comincio a fare i video in piedi perchè mi piace familiar però mi sono ricordato che perchè mi sono ricordato anche qui ho saputo perchè perchè prima c'era la live di una storia che un suo diciamo un suo ospite ha detto che ha giocato Udinese Brescia che in teoria era oggi Udinese Brescia ma era tipo era tipo che ne so under tipo queste cose qua non so neanche con definita ha detto che ha giocato Udinese Brescia io non so neanche se è vero però vabbè e niente va bene mi devo ancora riprendere dopo la baciossa che mi son preso perchè ho esultato per tutta casa nel senso vabbè andiamo verso dai mi sembra politano 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 non c'è bisogno tutto te e ora ragazzi e sfonda nero blu oh la 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 là ragazzi questo coro per me o o o o no allora napoli ris shojoli Napoli, allora vediamo se è segnato perchè, e boh, che mi sembra, vabbè, lo dice, lo dice di sicuro però non lo trovo, vabbè, cioè non mi sa prima a partire come faccio a non ricordarmi, per te la gioia. Non possiamo fermare, adesso calmati, è solo una, è solo una, è solo una, è solo una compa di merda, vinta, ma solo perchè la gioia non sa, calmati adesso calmati, calmati che è solo una compa Italia, calmati, 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 è solo una compa Italia, calmati, è solo una compa Italia, 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 il caglione ti parla a leggere, scesi, ti parla a leggere, scesi. E' solo una compa Italia, è 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 solo una compa Italia. è solo una compitata è solo una compitata è solo una compitata mi sa che ho migliato ma è perfetto grazie, io lo saluto questo nome lo saluto è solo una compitata carissima che si parte 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 la serie A la serie A la serie casa g di te job la vita goditi la vita casa casa monica te ciapa la 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 casa scintilla casa scintilla casa scintilla francesca punto impasta te ciapa la vita sono una compitancia che la 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 tu che ps%%%%&&%%%$%&&%%&%&%& ripartella serea ripartella serial ripartella asteria ripartella orsano dispare ma ן ripartella serial ripartella serial il contiglia va bus bella lefle ma dovevo ottenere i due un altro boss scintilla d ci ama mamita goditi la vita mamita goditi la vita ok ragazzi ok mamita noi che occhiartelloni qua che abbiamo messo casa scintilla di casa è tua casa ok ok e ragazzi vi saluto ricordatevi come sempre la vita con il di la vita 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 la vita te ciaba con il di la vita la vita arrivo subito arrivo subito la vita con il di la vita 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 casa monica casa monica casa monica casa scintilla te, ciapa ok ragazzi ragazzi vi saluto ci vediamo domani perchè domani usciranno tre video e ci si diverte in pratica perchè vi parlerò un po' di cosa ne penso del fatto che ricominci il campionato ragazzi io adesso vado che adesso sono un po' qua perchè ormai ci ho preso la giudine che vado a ottenere che riesco a tre quattro e non perchè non lo so adesso sono le ore aspettate che non ci dico un cazzo ore 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 1.39 1.39 1.39 la vita la vita la vita la vita la vita la vita casa scintilla La mia casa è la mia casa, la la la, la la, 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 gettica che ti chiedo? casa scintilla v tomba la 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 Casa Cintilla Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vi saluto, ci vediamo domani. E ricordatevi come sempre, casa Scentilla, mi casa, tu casa, ciao, buonotte e ci vediamo domani perché ci saranno delle sorprese, delle sorprese che usciranno domani. Mi raccomando, non mancate all'appuntamento che ha fatto l'intero, che ha fatto l'intero, che ha fatto l'intero, che ha fatto l'intero. I coglioni di male, ha fatto l'intero, che ha fatto l'intero, che ha fatto l'intero. La vita, coglioni di vita, quello sempre. Ragazzi, andate a vedere l'applicazione Speedlife, che potrete vedere dentro le case delle persone molto, ma molto, ma molto importante. Ragazzi, Speedlife è un'app dove va veloce a detto tante volte, dove puoi andare a vedere le case delle persone. in questi nomi qua, perché volevo che voi andassi a vedere questo, perché non è un'applicazione tipo su Google, ma è un'applicazione su Google. E in queste case, molto, diciamo, come fossero degli amici, e non inserare amici, Maria De Filippo, no, Maria De Filippino, vabbè. Ok, ragazzi, passa in Napoli, passa in Napoli, la Juve ormai fuori dalla compitaria, ma quello è unico, non cazzo. Ragazzi, ricordatevi come sempre, forza Napoli e Juve, Juve, merda. A domani, scendiglia.